Questo splendido stadio, non potevamo sperare in un clima migliore per l'incontro di oggi Sol Leone, Venticello, niente nuvole, cosa chiedere di più E allora mettetevi comodi, che siate soli o in compagnia e godetevi questo attesissimo match Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito ed è proprio così A quanto pare sulle tribune non entra azione fallosa, nessun dubbio Cerca il passaggio ma non trova la precisione Spazza via prontamente Zaccagni fa avanzare l'azione con il lancio lungo Sembrava un buon corridoio ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva Lucca si allunga per arrivare al pallone Thauvin Brutta questa transizione Fabio Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male Ma l'hanno sciupata Una prima parte di gara già frenetica Vogliono schiacciare gli avversari nella loro metà campo fin da subito Zaccagni Va via in dribbling Cerca cross Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa Lovridge Scodella in avanti Sparacchia via un pallone fuori misura La Lazio sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa Facendoli allargare il più possibile Success Apre una manca pure E arriva così il gol del vantaggio È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante Per poi partire al momento giusto E il risultato si sblocca 1-0 Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari Maruzic Uzzai Cerca il passaggio ma non trova la precisione Spazza via prontamente Zaccagni Fa avanzare l'azione con il lancio lungo Sembrava un buon corridoio ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva Lucca Lucca Si allunga per arrivare al pallone Tovin Brutta questa transizione Fabio Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male Ma l'hanno sciupata Una prima parte di gara già frenetica Vogliono schiacciare gli avversari nella loro metà campo fin da subito Zaccagni Va via in dribbling Cerca cross Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa Lovridge Scodella in avanti Sparacchia via un pallone fuori misura La Lazio sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo Eh si sfruttano maggiormente le fasce Sembra anche a me Già i loro avversari finora sono rimasti molto compatti Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa Facendoli allargare il più possibile Success Apriano le mancature E arriva così il gol del vantaggio E' rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante Per poi partire al momento giusto E il risultato si sblocca 1-0 Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari Maruzic Maruzic Usai E' rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante Per poi partire al momento giusto E il risultato si sblocca 1-0 Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari Maruzic Usai Usai Prova la fondo sulla destra Bella giocata Usai Cerca la giocata di Fino Eccolo che è conclusione Il pallone è dentro E siamo di nuovo in parità Una sfida senza esclusione di colpi Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa E hanno immediatamente risposto agli avversari Forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio Ha controllato con il primo tocco E l'ha messa dentro con il secondo Magnifico Si ricomincia da una situazione di parità Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito Complimenti agli avversari Che reazione da grande squadra Felipe Anderson L'arbitro